Quattro brioche, numero quattordici, quattordici, Anna hai visto? Anna hai visto Maurizio eh? Quattordici di brioche ti piace no? Mi dispiace. Il posto è qua dove abbiamo girato a destra, in quella corte lì c'è il panettere in piccola, numero 59, brioche, tre brioche, 59, vai, vai, bravo, numero ok, numero, numero, ah no ci fa togliere, numero 32. Buono per la parrucchiera, va a mettere i capelli, va a mettere i capelli, va a mettere, la parrucchiera è speciale per lui eh, è questa, è questa. Ma i capelli, non la parrucchiera, è il capelli. Vai, numero? Numero 84, 84, numero 84, 84, c'è? Che dì l'84? Nessuno corre? 84 e uno, 84 e due, 84 e tre, annullato l'84, altro numero. 44, 44. Bottega del vino, non lo vuole nessuno, vogliamo verlo io e te, Giovanni, che c'è? Che non vuoi, che non vuoi, che non vuoi, eh? Ah, per tuo padre sì, perché no eh? Ma che c'è la bottiglia, eh, chiedi bene. Numero 39, 39, 39. Numero 28, 28, c'è il 29, c'è il 29 qua, forza, 28. Numero 64, 64, 64, 64, 64 e uno, 64 e due, 64 e tre, annullato il 64. Sì, non vuoi.